Violenti nubi fragili, allagamenti nel centro ponente, ancora maltempo Sardegna, riprese le ricerche, disperso anche con i droni, maltempo alluvioni in Liguria e Sardegna, due dispersi, caos in Piemonte. Allora ne abbiamo parlato in queste settimane, la fragilità del nostro territorio emerge tutta quando un terremoto sconvolge le comunità o un alluvione dei vasti centri abitati nelle nostre campagne, come questi giorni abbiamo visto dall'Emilia, la Sicilia, dalla Liguria alla Sardegna. Quando vediamo e quando parliamo di questo, chi sono le prime persone che soccorrono, chi ci viene subito in mente? Sono i Vigili del Fuoco che prestano soccorso, portano cibo, medicinali alle popolazioni colpite, mettono in salvo le persone in pericolo e anche con l'ausilio di droni e loro mezzi. E oggi festeggiano i 70 anni, dobbiamo dire, la parte, la componente aerea dei Vigili del Fuoco che è attiva e pronta subito ad intervenire. Il soccorso antincendio Boschivo, buongiorno, tanti auguri, 2024, 70 anni. Come è cambiato il comparto aereo e come si è evoluto? Beh, si è partiti da un sogno, dalla voglia di gestire o intuire che un'innovazione tecnologica, come poteva essere 70 anni fa all'elicottero, poteva essere utilizzata a fin di bene e Vigili del Fuoco, di solito le innovazioni tecnologiche le guardano sempre con quest'occhio, per il soccorso alla popolazione. In questi 70 anni c'è stata un'evoluzione continua in termini di risorsi, in termini di reparti volo aperti, in termini di mezzi aerei di cui ci siamo dotati. Ecco, oggi la flotta è composta da che cosa? Oggi la flotta è composta da mezzi a dalla rotante, gli elicotteri di diverso tipo, i nuovissimi Augusta Westland 139, gli AB412 che sono nella nostra tradizione, gli S64 che sono quegli elicotteri grandi che portano acqua sugli incendi, portano fino a 9.000 litri di acqua, anche 10.000, e poi mezzi a dalla fissa come i Canadair e i droni compresi, che sono comunque una nostra dotazione strategica nell'ambito del soccorso. Direttore, perché quando noi parliamo di Vigili del Fuoco, la prima immagine è subito l'operatore, l'operatrice che va lì per spegnere l'incendio. In realtà sono tantissime le cose che fate, prima lo stavo dicendo, anche gli elicotteri poi servono in base al tipo di operazioni, perché dall'alta montagna, quindi al soccorso alpino che fate lì, fino diciamo anche al mare, o l'abbiamo visto anche sotto le macerie. Ha centrato quello che ci fa piacere rendere sempre più noto, perché Vigili del Fuoco, noi siamo orgogliosi del nostro nome, però Fuoco è ormai solo una quota parte del nostro intervento, un 20-30%, per il resto il nostro è un soccorso a 360 gradi, come componente fondamentale del sistema di protezione civile interveniamo su tutti i tipi di scenari derivanti dai rischi di ogni tipo, antropico, industriale, idrogeologico, sismico e così via, e quindi ci prepariamo con una squadra base che rimane sempre in grado di intervenire in maniera flessibile su tutte le tipologie di scenari, ma altrettanto ci specializziamo come gli elicotteristi, i sommozzatori, gli alisoccorritori, i SAF, i spelli alpino fluviali, i TASS, i cinofili, in vari settori, l'NBCR per gli eventi non convenzionali, quindi nucleare, biologico, chimico e radiologico, ci specializziamo per essere pronti in maniera capillare ad affrontare gli scenari nella loro tipicità più, diciamo, specifica. Ecco, diciamo che dobbiamo accendere i riflettori non solo quando avvengono alluvioni e disastri, ma sempre perché poi anche nel periodo, diciamo, un po' più tranquillo, voi siete lì che dovete operare proprio per addestrarvi per queste situazioni. Allora, prima lo stavamo dicendo dall'Emilia Romagna alla Sicilia, in Sardegna, e quindi andiamo proprio da Cinzia Petito, che si trova in Sardegna in questo momento, l'ultima zona che è stata colpita. Cinzia, vengo da te. In un giorno addirittura è caduta nel sud della Sardegna l'acqua di un anno intero. Sì, è così, Massimiliano. Io sono a Siliqua, a 40 chilometri circa da Cagliari. Alle mie spalle potete vedere la vallata nella quale proprio i vigili del fuoco, insieme al soccorso alpino speleologico, stanno continuando le ricerche che vedono disperso ancora Davide Manca, il ragazzo di 41 anni, velista, esperto e anche esploratore di questi paesaggi meravigliosi, che la notte tra sabato e domenica, proprio durante la bomba d'acqua che c'è stata in questa zona, ha di fatto fatto perdere le sue tracce e i suoi invece amici escursionisti si sono salvati, sono sette. Adesso le ricerche continuano, ma come stavate dicendo in studio, il pericolo qui non è solo dovuto alle condizioni meteo, ma anche alla mancanza di segnali, che rende molto difficili le operazioni dei vigili del fuoco, tanto che qui hanno dovuto mandare un ponte radio perché le comunicazioni tra le squadre erano difficili. Noi non possiamo oltrepassare questa zona, altrimenti non riusciremmo neanche ad avere il segnale per fare il collegamento in diretta e la strada, come vedi dalla parte opposta rispetto a dove mi trovo io, è chiusa perché ovviamente ci sono diversi smottamenti. Quindi qui davvero è molto difficile intervenire, anche per squadre esperte come quelle che state descrivendo. E il ragazzo è ancora disperso, ieri sono state trovate alcune parti di un'automobile che potrebbe essere compatibile col suo fuoristrada e appunto in questi minuti i vigili del fuoco ci hanno detto che fra un po' gli elicotteri si alzeranno ancora in volo, anche se le correnti dei venti purtroppo fanno in modo che le squadre che salgano a bordo siano in un numero minore rispetto a quello che ci vorrebbe, quindi le forze anche sul campo purtroppo non possono essere quelle necessarie. Però veramente i vigili del fuoco stanno facendo di tutto e speriamo che il ragazzo venga trovato. Ecco abbiamo appena sentito addirittura Cinzia, Cinzia che ci ha raccontato anche la difficoltà, il fatto che anche lei non possa andare lì perché ha senza di segnale, quindi di comunicazione, quindi dovete portare anche lì nuova tecnologia, il fatto che ci siano venti forti, correnti, l'acqua è un pericolo. Come vengono divise le squadre? Beh proprio in relazione a quella specializzazione che dicevo, per esempio il drone è capace di andare a intercettare il segnale di un eventuale cellulare nella ricerca a persona. La nostra tradizione, al di là di tutto quella che è l'innovazione, ci fa anche essere vicini ai vecchi sistemi che sono i telecomunicazioni, i ponti radio, i ponti radiomobili, che in situazioni di emergenza, o per esempio di un sisma o in questi casi, ci rende possibile anche costruire una rete di comunicazione provvisoria e temporanea finalizzata alla risoluzione dell'emergenza. Quindi in questo senso innovazione, ma non trascuriamo quello che la tradizione e l'affidabilità di certi sistemi può continuare a darci per portare il soccorso. Le chiedo questo perché in tanti vorrebbero, immagino, partire, aiutare, portare anche il proprio contributo. Però, come stava dicendo anche Cinzia, è una situazione estremamente difficile, lo diceva anche per voi, può diventare pericolosa. Quindi in questo caso solamente voi del settore dovete intervenire. Gli altri in questo caso è bene che rimangano a casa? Ma esiste una responsabilità sostanziale, diciamo morale, e una responsabilità anche di merito, che ci obbliga comunque ad essere attenti anche a quello che è il coordinamento dei vari contributi. I contributi sono tutti utili. Nella nostra nazione la protezione civile, il volontariato, è una risorsa fondamentale. Però il coordinamento e una giusta gestione delle risorse, che renda giusto anche e ben tarato lo sforzo e l'impegno, è fondamentale per tutta una serie di aspetti. Allora, Cinzia, alle tue spalle, vedevo che comunque fortunatamente non c'è, non ci sono grandi nuvole, non sembra che ci sia la pioggia. Ve lo confermi? Vedo che è il viso illuminato. Te lo confermo. Te lo confermo, Massimiliano. Qui da ieri, splende il sole, ma le testimonianze che ho raccolto anche qui sul territorio sono di grande speranza. Di fatto è stata una bomba d'acqua, non è stata un'alluvione come quella che possiamo aver visto in Emilia-Romagna. L'attività anche degli agricoltori, vediamo per esempio adesso sta passando un trattore, è ricominciata perché alcuni allevamenti anche sono stati colpiti, oltre che alcuni campi, campi di carciofi che in questa zona sono veramente una specie di alta qualità e quindi anche la CIA, la Confederazione degli Agricoltori, sta cercando di aiutarli. Adesso che il tempo si è rimesso e splende il sole, l'acqua si sta asciugando e quindi si contano i danni, ma si cerca di nuovo una nuova quotidianità. Grazie, grazie Cizia Perito. Allora, direttore Marco Ghimenti, noi le facciamo ancora tanti auguri per i vostri 70 anni e l'ultima cosa le chiedo proprio di rivolgersi a chi ci sta guardando per l'attenzione in questo momento perché sono bombe comunque che prima non avevamo e oggi sempre più spesso invece colpiscono il nostro territorio. Io ho accentrato il problema, tutto quello che è soccorso che interviene dopo da un certo punto di vista parte da un difetto che è quello diciamo di riuscire a fare prevenzione, prevenzione nella cura del territorio ma soprattutto nella cultura che noi cerchiamo anche di diffondere con le scuole, con i giovani, cultura della sicurezza che significa conoscere il proprio territorio e che significa conoscere anche i rischi e ritenere che se qualcosa può succedere devo comunque comportarmi in maniera adeguata. Quindi informazione sui rischi e comportamento adeguato che deve partire dalle giovani generazioni perché diventi non un vivere con il timore e con la paura ma un vivere con la consapevolezza e l'attenzione. Ancora tanti auguri a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e adesso a te Daniela.